Per il momento cercate di mantenere la mascherina, siamo prudenti, non andate a galazzare la domenica mattina sul lungomare, ci siamo divertiti, vi siete divertiti, sfrenate, mangiate, pizze, ristoranti, vabbè, buh, siamo in zona arancione e se non stiamo attenti fra poco andiamo in zona rossa. Purtroppo è matemà, ve l'avevo detto, ma per tanti versi abbiamo città a cominciare da questa che sono totalmente fuori controllo. Ho visto solo domenica le transenne a lungomare Caraccio quando non servivano più a niente, quando c'è un'ordinanza le forze dell'ordine e le polizie municipali hanno la responsabilità di garantire il rispetto. Ma se la sera dopo le sei ognuno fa quello che vuole e nelle piazze e nelle strade la metà stiamo senza mascherina, siamo perduti. Abbiamo il dovere di guardare sempre con fiducia al futuro, noi siamo un paese che deve arrivare prima con la testa contro il muro prima di capire la gravità dei problemi.